In queste immagini, girate con un cellulare, vediamo l'interno della tenuta. Qui è stata allestita una vera e propria tendopoli. Decine di brande ammassate, con bagni chimici e scarsa disponibilità d'acqua. E come mostra, questo cartello ottenuto da un profugo scarseggiano le cure mediche. Il controllo, la sicurezza, manca gli standard igienico-sanitari. Nei prossimi giorni sono possibili nuovi arrivi e i cittadini non ci stanno. La difficoltà mette ancora difficoltà e poi la bomba piano piano scoppia.